Un 33enne residente in Germania ha rapito il figlio di appena due anni che vive in Alto Adige con la madre durante un incontro con l'assistente sociale. Dopo il sequestro l'uomo con un complice è fuggito in auto e si è schiantato contro un camper. Il bimbo che era seduto senza cinture sulle ginocchia dell'amico è stato sbalzato fuori dall'auto rompendo il parabrezza, ha riportato diverse ferite e dovrà essere operato alle gambe, ma non è fortunatamente in pericolo di vita. L'incidente è sulla statale della Val Pusteria all'altezza di Perca, feriti in maniera lieve anche il padre del bimbo e il complice, entrambe marocchini. I carabinieri su disposizione della procura di Bolzano li hanno arrestati con le accuse di sequestro, resistenza pubblica ufficiale e lesioni. L'uomo poteva vedere il figlio anche se con la sorveglianza dell'assistente sociale e a lei, come altre volte già in passato, la madre aveva affidato il bambino. Quando il padre è arrivato però è sceso dall'auto, lasciata accesa e con l'aiuto del complice ha preso il figlio ed è fuggito, l'assistente sociale ha chiamato immediatamente i carabinieri che hanno disposto alcuni posti di blocco per intercettare l'auto in fuga. Nemmeno dieci minuti dopo, alla centrale di emergenza, è arrivata la segnalazione dell'incidente ed auto con i tre feriti. I vigili del fuoco volontario hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture e dell'area interessata dall'incidente. I tre sono stati presi in cura dal soccorso sanitario.